Benvenuti a questo appuntamento pomeridiano di Invito alla lettura. Abbiamo due proposte. La prima della Casa di Trice San Paolo, è un libro di Monsignor Massimo Camisasca, La Casa, la Terra, gli amici, della serie della collana La Chiesa nel terzo millennio. Qui tra noi lo salutiamo con un applauso per questa nuova offerta. Abbiamo con noi, per presentarlo, per commentarlo, il giornalista Aldo Cazzullo del Corriere della Sera, volto anche amico e noto da Pailani a qui al meeting e ormai sparring partner del docile pugile Camisasca. Due brevissime parole. Il libro che ha questi tre termini, La Casa, la Terra, gli amici, potrebbe sembrare il riandare a parole così antiche per un gusto di una riscoperta umanistica. In realtà Don Massimo parte dalla constatazione di vivere in un tempo di grande dispersione, dove la coscienza di sé potrebbe essere la cosa più difficile da ritrovare, ma soprattutto ci accorgiamo anche che è la cosa su cui si è incerti nella capacità di educare. E dice, tutto ci è consegnato nella misura del troppo, troppe immagini, troppe notizie, troppi suoni, troppe sollecitazioni. Occorre perciò una riscoperta del centro, di ciò che non può mancare, che costituisce la salvezza della nostra vita nel tempo e nell'eterno. Ecco, questo riassume un po' il suo desiderio costante nei suoi libri e anche nella sua azione educativa che svolge nella Fraternità San Carlo Borromeo di indicare quello che lui ha visto, suggerire quello che lui ha incontrato, la salvezza nella nostra vita e anche la passione nel comunicare quali sono i punti, i punti fermi senza dei quali è impossibile vivere e scoprire integralmente tutto questo. Anche nel libro c'è una bellissima traiettoria di considerazioni storiche o comunque di giudizi su dove affonda le radici la crisi, l'incertezza del nostro tempo. Ad esempio, nell'aver troncato il legame con la tradizione, con l'autorità, come invece la riscoperta della necessità di un padre sia decisiva. Ecco, tutto questo porta come dei punti di metodo, ma forse è una parola che con più lievità incontriamo nel libro proprio perché la casa, la terra e gli amici sono presentati nella loro verità storica e della sua esperienza. Ma io lascio subito ad Aldo il compito di dirci anche che cosa lo ha colpito di questo libro. Grazie Camillo, grazie a tutti quanti voi. Ogni volta che mi invitano al mitico a presentare un mio libro, io pongo come condizione di presentare prima il libro di Massimo Camisasca. Così poi mi trovo alla sala piena, migliaio di persone e quindi faccio pesca a strascico. O godo di un traino eccellente, come si dice in gergo televisivo. E' ovvio che questo poi vi vincola a restare. Se qualcuno di voi se ne va, lo considero come un affronto personale. Comunque, no, grazie a Don Massimo perché, non è inutile che vi presenti Don Massimo perché lo conoscete benissimo. E' l'uomo che ha scritto la storia di Comunione e Liberazione, sia in senso tecnico, perché i suoi tre volumi, fino all'84, rappresentano un punto di riferimento per chiunque, anche in futuro, dovrà affrontare la storia di questo movimento. E anche perché, in qualche modo, la storia di CL Don Massimo ha contribuito a farla, fin da quando accompagnò Don Giussani nello storico primo incontro con Giovanni Paolo II, da cui Giussani, come Don Massimo, testimonia personalmente nei suoi libri perché c'era. Giussani esce dicendo, è un leone, è un leone, e in qualche modo già intuisce quello che sarebbe successo nei decenni a venire. Oggi Don Massimo ci propone questo nuovo libro che è stato pubblicato dall'edizione di San Paolo, che si intitola La casa, la terra, gli amici. Io più che presentare il libro come di consueto vorrei fargli un'intervista, vorrei cercare di provocarlo, di fargli uscire poi quello che ha di dentro e magari anche qualche parola in più rispetto a quello che hai già scritto nel libro. E cominciarei Don Massimo dal titolo, La casa, la terra e gli amici. Sono tre parole, tutte e tre, molto importanti, ma che è difficile associare le une alle altre. Perché hai scelto questo titolo? Cominciamo dalla prima parola, dalla casa. Cosa intende per casa? La casa è una parola, o meglio un'esperienza, che sintetizza un po' tutto quanto il libro. Io penso che noi oggi viviamo in un'epoca di sentimenti che vanno e che vengono e che rendono anche molto instabile la vita delle persone. Viviamo appunto, come è stato detto, in una società liquida. Allora c'è bisogno di dare un luogo ai nostri sentimenti, non di cancellarli, ma di dare un luogo ai nostri sentimenti, ai nostri pensieri, ai nostri ideali. Ecco, di mettere in rapporto ciò che è soggettivo e ciò che è oggettivo. Quando nasce un amore, si desidera vivere assieme. Questo è per me il significato della parola casa. Quando nasce un amore, si desidera vivere assieme. Si desidera avere delle mura. Si desidera avere dei mobili in comune, una libreria in comune, qualcosa da leggere assieme. E poi infine dei figli. Non è che tutto ciò non creerà difficoltà. Ci saranno anche le difficoltà del vivere assieme. Ma nessun sentimento vero che si apre all'altro rimane se non crea un luogo di stabilità. Questo mi sembra essere il compito della Chiesa oggi. dare stabilità alla vita, dare forza ai sentimenti, dare stabilità agli ideali. Permettere all'uomo di vedere che gli ideali non sono illusioni, fantasie e alla fine muoiono. Ma che gli ideali possono avere un futuro. E hanno un futuro però soltanto se trovano la stabilità di un luogo in cui ancorarsi. L'oggettività di un luogo in cui essere continuamente alimentati. Ecco perché parlo di casa. Devo dire che ho trovato una frase di Ratzinger, quando era teologo, e l'ho trovata in Don Giussani, che la citta in un libro degli anni settanta. Quindi questa frase è degli anni settanta, che dice così. L'amore in astratto, la frase ripeto è di Ratzinger, citata da Giussani, l'ho trovata. L'amore in astratto non avrà mai forza nel mondo. L'amore in astratto non avrà mai forza nel mondo. Un ideale, anche se immenso come l'amore, il più alto, non avrà mai forza nel mondo. Se non affonda le sue radici in comunità concrete, costruite sull'amore fraterno. La frase finale, si deve cominciare dal particolare per arrivare all'universale. Ecco, questo per me è la casa. Si deve iniziare dal particolare per arrivare all'universale. Io non posso amare la gente. Io devo cominciare ad amare qualcuno. Ho trovato recentemente in un articolo di Avvenire di Jean Vanier questa frase. Non dire per favore Dio mi ama. Di piuttosto tu mi ami. E attraverso di te io scoprirò l'amore di Dio. Ecco, mi sembra questo il senso del mio accento sul tema della casa. Un tema che, devo dire, ho imparato da Don Giussani e precisamente dai primi anni del suo insegnamento ai Memories Domini, ma che poi è diventato anche il tema centrale della educazione che do ai giovani che entrano nella Fraternità San Carlo. Io desidero che tutte le potenzialità ideali della loro personalità trovino il loro sviluppo e la loro forza, ma possono svilupparsi e avere un futuro soltanto se riconoscono un luogo umano in cui radicarsi, cercarsi concretamente una fraternità e un'autorità. Massimo? Prima di proseguire con le altre due parole, però aiutami a capire meglio quello che hai detto che mi sembra molto importante. Tu citi questa frase di Raffinger, ripresa da Giussani, l'amore in astratto non ha radici in questo mondo. Nel libro scrivi che l'affettività è purimossa nella Chiesa, come se diventare sacerdote significasse rinunciare all'affettività. Invece tu sostieni che non è così, che ci si può innamorare, però come, in quali forme? Cioè, allora è un innamoramento che in qualche modo è condannato a non trovare le forme consuete, che sono poi una donna, una famiglia, dei figli. Sì, l'innamoramento è un aspetto soltanto dell'affettività, che è un fenomeno più generale. Quello che ho voluto mettere in luce in questo libro, ma in realtà di cui più diffusamente avevo parlato nel libro Padre, è che girando molto spesso nei seminari, invitato a parlare, e anche nelle diocesi, invitato a parlare ai preti, ho trovato che il tema dell'amicizia è un tema spinoso. Più o meno lo supponevo. Io penso che sia un tema invece, soprattutto un'esperienza positiva, anche se rischiosa, che le persone sono invitate, devono essere invitate a vivere, di cui non aver paura. Non aver paura dell'amicizia, non aver paura dell'affezione, perché non possiamo andare alla verità se non attraverso l'affezione. Non possiamo mai disgiungere la verità dall'amore, e l'amore dalla verità. Quindi il nostro amore sarà sempre un amore sacrificato, se vuole essere un amore vero, ma deve essere un amore che si esprime in tutte le sue potenzialità. Poi tu toccavi un tema particolare, e cioè il tema dell'affezione e dell'affettività nella vita sacerdotale. Io sono convinto che il celibato sia una strada possibile per lo sviluppo della nostra affettività e della nostra affezione. Altrimenti la Chiesa ci chiederebbe una diminuzione, una castrazione. E perché non è una diminuzione? Non è una diminuzione perché la sessualità non si riduce all'aspetto genitale. La sessualità coinvolge tutta la nostra personalità. E il sacerdote non solo è libero, ma è chiamato ad avere amicizie, sia maschili che femminili. Nel libro dico, è possibile anche che si innamori, certamente, no? Però se egli ha già scelto e affermato la strada della verginità attraverso la sua ordinazione sacerdotale, saprà convertire quel suo innamoramento in una strada sacrificata che lo porterà ad amare di più gli altri. D'altra parte, questo è vero anche per chi si sposa. Perché anche chi si sposa si può innamorare di un altro uomo o di un'altra donna. Non ci sono differenze. Infine. Ecco, e invece la terra? La terra. Devo dire che questa seconda parola, la terra, è venuta alla fine. All'inizio pensavo di intitolare il libro La casa e gli amici, ma poi ho detto non sarà troppo intimistico. E allora ho inserito questa parola, che d'altra parte richiama molti aspetti del libro, soprattutto due aspetti che mi stanno molto a cuore. Il primo è la vocazione universale che c'è nel cristianesimo, l'ultima parola di Gesù. Andate in tutto il mondo. Tutta la terra è destinata a incontrare Cristo. Tutta la terra è destinata a incontrare la salvezza. Tutti gli uomini sono destinati a vedere e a sperimentare in modi diversi, no? L'inizio della gloria già su questa terra, in frammenti, in bagliori, in piccoli istanti o in lunghe esperienze. Questo è il primo aspetto della parola terra che ho voluto sottolineare. Quasi dare un corrispettivo alla parola casa. Parlare di casa non vuol dire parlare di un chiudersi in se stessi, vuol dire anzi parlare di un partire per aprirsi a tutto il mondo. La casa è il luogo che mi apre all'universo. E poi c'è un altro tema nel libro che mi sta molto a cuore, su cui sto scrivendo altre cose che appariranno nei prossimi anni, ed è il tema dell'ecologia cristiana. Un tema che sta molto a cuore a Benedetto XVI e che sta anche molto a cuore a me. E cioè la natura è una delle forme più potenti per andare a Dio. La bellezza della natura è una strada a Dio, è una strada alla verità degli uomini. E chi nasconde o uccide questa bellezza, nasconde o uccide una strada a Dio. Sono stato recentemente in Sicilia, dopo tanti anni, mio nonno era siciliano, no? Ho visto la cementificazione, sui gretti dei fiumi, sulle colline. Ho visto delle cose terribili. Ero stato tanti anni prima a lungo in Sicilia, poi sempre mordi e fuggi, e non avevo potuto vedere. Mi si è spezzato il cuore. Dico, ma se noi uccidiamo la bellezza, se noi uccidiamo la bellezza nel cuore dei ragazzi, uccidiamo anche la strada verso la verità per loro. Se uno non sa più che cos'è bello, non sa più neanche cos'è bene e cos'è male. La bellezza è la strada più potente verso la verità, verso Dio. E noi perciò, quando parliamo di una ecologia vera e autentica, parliamo di una strada a Dio. Certo, ci sono anche delle ecologie malate. Non ne parlo nel libro, ne parlerò in un prossimo libro. Cioè delle ecologie che vedono la natura come un mondo, un luogo indifferenziato di beni. Nascondono la gerarchia che esiste nella natura, fra l'uomo, gli animali, le piante, eccetera. Quando si uccide questa gerarchia, si uccide anche la vera ecologia. Però rimane d'altra parte che oggi, laddove si uccide la bellezza, si uccide il cammino futuro dei ragazzi verso la verità. Ma tu non credi, Don Massimo, che però la Chiesa ogni tanto sembra quasi avere paura della bellezza, averla rimossa. Cioè, per secoli la Chiesa è stata committente dei più grandi artisti del tempo e ha creato bellezza. Guardi, lo spettacolo che vedremo dopo finisce con le immagini dei grandi quadri dipinti da italiani che sono oggi all'estero, al Prado, all'Uvra. E sono tutti quadri a soggetto religioso. La sepoltura di Cristo di Tiziano, il battesimo di Gesù di Piero della Francesca, il Cristo alla colonna di Antonello da Messina. Oggi la Chiesa sembra quasi temere la bellezza. Da una parte penso anche agli eccessi pauperisti di una certa interpretazione del Concilio, gli anni 70, con la Chiesa che doveva restare quasi nascosta nella comunità, quasi invisibile. Sono stato l'altro giorno a Longarone, che è una città ricostruita alla fine degli anni 60, la Chiesa c'è ma non si vede, perché è stata costruita pensata come un garage, una cosa nascosta, quasi invisibile. Dall'altra parte, sembra quasi che la Chiesa abbia paura della bellezza, ad esempio della bellezza femminile, del corpo della donna, sembra quasi un'ossessione. È così o è un giudizio superficiale? Che ci siano uomini di Chiesa che hanno paura del corpo può essere vero, è vero. Ci sono uomini in genere che hanno paura del corpo. Oggi l'esaltazione del corpo si accompagna una grande paura della corporeità. Direi che ci sono state stagioni diverse, non posso dilungarmi, certamente laddove il cristianesimo è stato vissuto, la bellezza è fiorita, pensiamo al Medioevo, pensiamo anche all'umanesimo, certamente, no? Poi la bellezza è stata vissuta piuttosto come committenza, i grandi papi del Cinquecento e del Seicento. Poi c'è stata una rottura. La rivoluzione francese ha segnato una rottura, ma non tanto della Chiesa con la bellezza, ma della Chiesa con la modernità. Bisognava fare distinguere che cosa nella modernità voleva sopprimere il cristianesimo e che cosa nella modernità, invece, era semplicemente contraria a una espressione storica del cristianesimo. Direi il grande incontro nuovo con la bellezza è avvenuto con Paolo VI. L'incontro di Paolo VI con gli artisti ha segnato una stagione nuova. La capacità che ha avuto Monsignor Macchi accanto a Paolo VI di tessere i rapporti, di creare il Museo di Arte Contemporanea in Vaticano. Così Giovanni Paolo II e così questo Papa. oggi c'è un grande desiderio della Chiesa di riprendere il dialogo con l'arte, però un dialogo che si riprende dopo 200-300 anni di interruzione. Quindi direbbero i francesi che ci sono ancora dei tattonno, dell'andare un po' a tastoni, però io sono convinto che soprattutto dopo la teologia del corpo di Giovanni Paolo II questo incontro con la bellezza sarà molto fecondo. Ecco, hai citato Benedetto XVI. Che impressione hai avuto specificamente del viaggio del Papa a Madrid, delle giornate mondiali della gioventù e più in generale qual è la tua valutazione di questo papato? Tu sai che, anche qui, nell'interpretazione a volte superficiale dei laici, dopo il gigante Giovanni Paolo II ci sono state fatte delle valutazioni anche severe nei confronti dello stile e dell'approccio di Benedetto XVI. Qual è il tuo punto di vista, la tua visione al riguardo? Bene, le valutazioni severe ci sono sempre, soprattutto sui papi viventi. Poi, quando un Papa muore, le valutazioni severe un po' diminuiscono e anche si fanno un po' più obiettivi, giudizi. Però è chiaro che per uno che veniva dopo Giovanni Paolo II e per di più che veniva dopo essere stato prefetto dalla dottrina della fede, le valutazioni severe erano quasi lì a portata di mano. Però mi sembra che adesso stiamo entrando in una valutazione più obiettiva. Innanzitutto, io ammiro in Benedetto XVI il coraggio di non voler essere Giovanni Paolo II, ma di voler essere se stesso. E non era facile. Non era facile. E che cos'è lui? Lui, innanzitutto, è un grande pedagogo della fede. Quindi, secondo me, soprattutto quello che rimarrà di lui, gli auguro un lungo pontificato, quindi si vedrà poi, ma se dovessi dire oggi, quello che rimarrà di lui è quello che è rimasto di Leone Magno, cioè la grande mistagogia della fede, che egli realizza soprattutto attraverso la sua predicazione, e in particolare la predicazione durante la liturgia. Questo è quello che stupisce, commuove, impressiona di lui. Poi si sta vedendo che non è poi tanto vero quello che si diceva, e cioè, certamente, non ha il carisma che aveva Giovanni Paolo II di comunicazione con le folle. Leggevo oggi, proprio sul Corriere, mi sembra, Giovanni Paolo II hanno detto parlava attraverso ciò che faceva, lui parla attraverso ciò che dice, ma parla anche attraverso ciò che fa. Il coraggio, per esempio, di continuare le giornate mondiali della gioventù è un coraggio che ha avuto, non tutti, penso, l'avrebbero avuto. Era un po' come il coraggio di Paolo VI di continuare il concilio. Giovanni Paolo II radunava intorno a sé centinaia di migliaia di giovani e li sapeva gestire con la sua presenza. Benedetto ha avuto il coraggio di continuare queste giornate con un suo stile e si è visto che i giovani vanno. Ecco, allora mi chiedi un giudizio. Che cosa significa questo fatto? Significa per me due cose. Significa la grande potenzialità che c'è in questa generazione di giovani. E non sto dando un giudizio clericale, noi viviamo in una generazione di giovani che cercano e che molto spesso non trovano. Quindi cercano laicamente, tra virgolette, in Benedetto XVI un maestro per la loro vita. Cercano dei maestri e vedono che nelle parole di Benedetto XVI c'è un'autenticità che li affascina. Poi resteranno, non resteranno, troveranno a loro volta ecco il grande problema, troveranno a loro volta dei maestri là dove vivono. Questo certo è importante e non è detto. E non è detto. Però, questo sta a dire questo grande afflusso di giovani a Madrid. certamente anche da un punto di vista negativo è la grande assenza di maestri intermedi nella nostra società per cui brillano questi punti di luce ma poi i giovani hanno bisogno di essere accompagnati per mano nelle loro case e quindi c'è nella nostra società di oggi, nella nostra chiesa di oggi un grande bisogno di maestri intermedi. Ecco, ma i sacerdoti ad esempio quindi non fanno abbastanza bene il loro mestiere? No, lo fanno però forse c'è bisogno di più sacerdoti che lasciandosi abbeverare dal padre diventano padri a loro volta e torna il tema affettivo di cui parlavamo prima. Ecco, tu hai cercato di dare una risposta a questo tema dell'affettività facendo sì che i sacerdoti potessero vivere insieme, potessero avere una casa, una casa comune, hai fondato la fraternità San Carlo Borromeo che ora esiste su tutti i cinque continenti No, tranne l'Australia gli altri quattro continenti principali e non so io Don Massimo ha una rete Don Massimo non cerca la ribalta non è interessato a diventare famoso non va in tv però ha una rete internazionale impressionante io sono andato a pranzo qualche giorno prima di che partissi per la Spagna quando Zapatero vinse le elezioni e lui mi disse potresti andare a parlare con Cagnizares il primate di Spagna che allora stava ancora a Toledo e lunedì mattina con il risultato elettorale ancora fresco ero a Toledo nel palazzo Orcivescovale a parlare con Cagnizares che tutti chiamano Don Antonio perché là non c'è eccellenza, eminenza Don Antonio e lui può molto svere è ora di toglierli anche in Italia chiusa parentesi e lui insomma disse a Zapatero quello che qui c'è un vescovo che si fa chiamare Don Giovanni è giusto? bene c'è un altro Don Paolo mi ricordo quando parlavamo del celibato la domanda sul celibato e sul sacerdozzo femminile l'ho già fatta l'anno scorso quindi la risparmio al pubblico tu mi dicesti se un papa domani mattina decidesse di togliere il celibato dei sacerdoti potrebbe farlo se decidesse di fare le donne prete no perché sarebbe rettico sarebbe contro il diritto divino io non ho tuttora non ho capito perché però sto a quello che tu mi hai detto ecco però mi ricordo che tu mi dicesti se ad esempio vai a parlare con Claudio Ummes vedrai lui ti dirà delle cose interessanti sul celibato dei preti io quella volta lasciai cadere il tuo invito e qualche settimana dopo Lessighe Ummes aveva detto che lui era favorevole a togliere il celibato dei preti è stato il tuo vice da Monsignor Peffi che nel frattempo è diventato arcivescovo di Mosca è qua è qua Andrea dove sei? è qua Andrea e lui insomma mi disse delle cose non banali sul rapporto tra cattolici e ortodossi che forse non sono mai stati tanto vicini come adesso insomma come dire Don Massimo ha attivato una rete intercontinentale non tutti fanno parte della fraternità San Paolo però in qualche modo tu hai saputo fondare una cosa che non c'era prima non c'era adesso c'è come ti è venuta questa idea questo progetto questa ambizione di dare una casa a sacerdoti che magari prima vivevano ognuno per conto proprio non è stato assolutamente un progetto e neppure un'ambizione è stato realmente un fatto accaduto cioè eravamo a Roma nell'84 un gruppo di sacerdoti che avevano incardinati nella diocesi di Bergamo si trattava per varie ragioni di trovare un nuovo statuto canonico parlai soprattutto io con Don Giussani e si vide assieme ma perché non fondare un'associazione sacerdotale missionaria ne parlamo con il Cardinal Poletti che fu d'accordo e lì iniziò la cosa e poi la cosa è andata avanti giorno dopo giorno realmente senza dei progetti fatti a tavolino ma spinti da quello che se mi è permesso dire lo spirito suscitava giorno dopo giorno certo non avventatamente non sventatamente ma senza precorrere noi i tempi e questo forse è stata la cosa migliore di questi 25 anni ma perché le donne lo possono fare sacerdote? perché Gesù ha solo scelto apostoli maschi e non perché Gesù ha pensato e non è qui non so adesso veramente le ragioni Gesù ha pensato che le donne avessero qualcosa di più importante da fare l'anno scorso è venuto al meeting il patriarca di Venezia che non aveva il problema eminenza eccellenza don Angelo perché patriarca suona bene insomma e mi ricordo che fece questo incontro davanti a 10.000 ragazzi impostandolo sui film che aveva visto quell'estate e poi disse a volte dicono che io parlo difficile chi dice che io parlo difficile perché vuole ascoltare solo le cose che già sa perché anche questa è una frase che non è male beh nel frattempo il patriarca è diventato arcivescovo di Milano tu a Roma hai vissuto con don Angelo Scola in questa casa se lo ricordo male eravate ospiti dei suori vicino Santa Maria Maggiore sì non delle suori un pensionato universitario che poi era la sede della nostra fraternità 11 anni assieme dove ogni tanto venivano a cena don Giussani e l'allora cardinale Ratzinger insomma un posto che ha portato fortuna a chi lo frequentava ci racconti ora che non è qui e non si ascolta chi è don Angelo Scola don Angelo Scola è un uomo che guarda avanti è un uomo che guarda al futuro è un uomo che secondo me per tre ragioni la fede di sua madre il socialismo di suo padre e l'incontro con don Giussani non ha in sé neppure una goccia di sangue reazionario è invece un uomo che guarda al futuro e che vuole coniugare la tradizione con la postmodernità questo secondo me è la sintesi di quello che ho letto di lui negli anni di Venezia cioè vuole dare forma nuova vuole aiutare meglio ad assumere forma nuova al cristianesimo senza rinnegare neppure per un istante il suo radicamento nella tradizione ma dando risposte alle attese di oggi quindi un uomo proiettato in avanti in questo senso io lo vedo nella tradizione di Carlo Borromeo perché Carlo Borromeo è stato un grande riformatore per nulla reazionario come invece poi si è tentato di farlo passare un uomo che ha avuto il coraggio di mettersi di fronte di combattere contro la Spagna che allora dominava Milano quindi un uomo che ha avuto il coraggio di mettersi contro i potenti un uomo che ha avuto nello stesso tempo il coraggio di combattere contro tutte le deviazioni che trovava nella vita religiosa del suo tempo un uomo che ha dato forma al cristianesimo di quel momento un uomo che dopo aver presieduto per breve tempo il concilio di Trento come legato papale soprattutto è stato colui che ha attuato il concilio di Trento nella diocesi di Milano e attraverso quella diocesi si può dire in tutto il mondo per dire che cosa ha fatto San Carlo ha fatto il messale ha fatto il breviario ha fatto i seminari ha fatto insomma non poco io penso che Scola si ponga in questa tradizione noi non sappiamo che cosa voglia dire questo che sto dicendo e se sia vero io lo ritengo vero conoscendolo no? quindi è un uomo che guarda avanti non è un uomo del passato ma che cosa cambierà secondo te con Angelo Scola alla Curia di Milano tiene conto che Scola non c'è ma Tettamanti sì perché l'ho incrociato prima naturalmente non ti deve censurare in nessun modo no no ma mi censuro invece e non so che cosa cambierà nella Curia di Milano questo lo deve dire lui non io senti ma siccome qua ci sono molti milanesi tu sei cresciuto in Riva al Lago però poi sei un milanese no? fra l'altro anche Scola è nato in Riva al Lago anche il cardinale Borromeo non c'entra nulla ma mi racconti l'incontro tra Alessandro Manzoni e Giuseppe Verdi come hai fatto l'ultima volta che sei andato a cena con me perché è bellissimo Alessandro Manzoni e Giuseppe Verdi abitavano a 300 metri di distanza no? avevano tutte e due un grande desiderio di vedersi ma come accade spesso a persone di quel tipo no? per esempio Simenon e Gid che si sono scritte valanghe di lettere non si sono mai incontrati comunque caro Simenon ci vediamo domani caro Gid ci vediamo dopodomani ma non si sono mai visti no? e insomma anche Manzoni e Verdi avevano le loro nevrosi e quindi avevano fatica a incontrarsi veramente in realtà abitavano vicino e avevano un desiderio autentico di trovarsi insomma alla fine combinarono così Manzoni sarebbe Verdi sarebbe venuto nella casa di Manzoni ma avrebbe incontrato la moglie e il primo incontro avvenne con la moglie di Manzoni no? che era come la testimone della grandezza del marito e e che lasciò a Verdi una foto del marito con una dedica no? in cui Manzoni aveva scritto più o meno queste parole al più grande maestro dell'Italia uno che non osa neppure firmarsi e non si firmò però è chiaro che era lui perché era la sua foto Manzoni rimase Verdi rimase molto commosso di questa cosa scrisse delle lettere a Manzoni che arrivavano molto in fretta allora la posta funzionava 500 metri ci si metteva poco più di un giorno o meno ancora di un giorno ma alla fine i due si incontrarono Manzoni ricevette Verdi e Verdi gli scrisse poi alla moglie una lettera dicendo ho incontrato un santo io sono un anticlericale però secondo me Manzoni è più santo di tutti i santi che voi clericali mettete nelle vostre chiese così è andata più o meno l'incontro lo so capite perché lo so ve lo dico tutti gli anni lo so ma io ogni anno intervisto capi di stato calciatori attori una persona affascinante interessante come Don Massimo Camisasca non incontro quasi mai abbiamo ancora un minuto allora lasciatemi dire un po' più di un minuto dai Camillo voglio dire una frase di Don Giussani sull'amicizia perché abbiamo parlato della casa della terra e anche degli amici parlando dell'affettività ma voglio dire soltanto una frase dell'amicizia per farvi capire quanto questo tema dell'amicizia sia nato in me da lui dal rapporto con lui lui lo ha tematizzato soltanto in una fase finale della sua vita ma lui lo viveva potentemente e anche drammaticamente è una frase del 69 non boicottiamo questo termine alterandolo nel suo valore autentico non riduciamolo quindi a qualcosa di sentimentale non boicottiamo questo termine amicizia alterandolo nel suo valore autentico essa e qui dice una frase complessa come erano complesse certe sue frasi per la densità ma che magari se vi annotate capirete essa è il rapporto che ti richiama alla presenza che ti è venuta dentro è il rapporto l'amicizia è un rapporto che costituisce un richiamo con qualcosa che sta fuori e che è accaduto nella vita questo richiamo conclude Giussani parlando di sé questo richiamo essenziale totalitario invadente energetico come se si fosse sprigionata tutta l'energia atomica dell'universo questa è per me l'amicizia io direi ancora che tra qualche mese esce il tuo prossimo libro che si uscirà invece dall'edizione messaggero di Sant'Antonio si intitolerà Amare ancora genitori e figli dell'Italia di oggi c'è un'emergenza che riguarda la famiglia si è un'emergenza famiglia io parlo della famiglia in questo libro e vi lascio una frase soltanto la famiglia non è un istituto del passato da difendere un'opportunità del futuro da riscoprire questo è il senso di questo libro grazie Domas grazie adesso c'è lo spettacolo tratto dal libro di Aldo Cazzullo io mi fermo voi fate qualche volete io lascio ad Aldo il compito di introdurre perché lui ha realizzato insieme ad alcuni attori amici una forma espressiva di quello che è il suo libro Viva l'Italia con il quale ha voluto partecipare personalmente a questo momento dei 150 anni e ascoltiamo la sua introduzione prego di rimanere uniti nel gesto davvero pochi secondi e cominciamo io non faccio l'attore gli attori sono brevissimi leggeranno i brani del libro io li commenterò ci saranno musiche immagini insomma credo che se vi fermate non ve ne pentirete pochi secondi ci siamo il piave mormorava calma e placida al passaggio dei primi campi il 24 maggio l'esercito l'esercito marciava per raggiungere la frontiera per far contro il nemico una carriera muti passarono quella notte i fanno lì la cera bisognava andare avanti e sudiva intanto dalle amate sponde son messe lieve il tribu di arte l'onde era un pesaglio dolce e lusigniero e il piave mormorò non basta lo straniero ma in una notte trista si parlò di un fosco evento e il piave univalira e lo scomento ai quanta gente ha vista nel giusto asciare il tetto prova 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 per cert per cert viva son messe tristo il mormorio l'onde come un signor son que l'autunnonero il piave mormorò ritornal l'ostraniero E ritornò il nemico per l'orgoglio, per la fame Voleva sfogare tutte le sue brame Vedeva il piano abricco di lassù Voleva ancora sfamarsi e tributiare come allora Noi se il piave no vi sarei fanno qui Ma è più il nemico faccia un passo avanti E si viva il piave di gonfiare le sponde E come i fatti combattivano le onde L'osso del sangue del nemico altero Il piave comandò indietro l'alto straniero Indietro è già il nemico fino a Trieste, fino a Trento E la vittoria sciolse le ali al vento Prego di sedervi, perdon Servizio accoglienza Trento secondi Scusate Trento secondi Sono già venti Scusate Scusate il momento Momenti di passione Giornate di dolore Ti scrivo, cara mamma, domani c'è l'azione E la brigata nera, noi la faremmo rire Dai monti di Satrana Undi discenderemo Allerta partigiani Del battaglio Lucetti Il battaglio Lucetti Son libertà e nulla più Coraggia sempre avanti La morte nulla più Coraggia sempre avanti La morte nulla più E la parte nulla più Vi puffi Dio Passare Grazie a tutti. 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 La resistenza fu fatta dai cattolici da Teresio Olivelli, ribelle per amore da Ignacio Vianna che l'ozio di Gian Maria Vianna il direttore dell'Osservatore romano il fu il primo a salire in montagna sobre Boves lui era un tenente dell'esercito da un militante della FUCI Federazione universitaria cattolica italiana era un amico di Moro e Andreotti arrivano le SS occupano a Boves il parroco l'industria del paese cercano di mediare, vengono fucilati, i loro corpi bruciati con lanciafiamme e Ignazio Vian porta i giovani del paese in montagna, sarà anche lui preso e impiccato a Torino a Olampione. La resistenza fu fatta da aristocratici monarchici come il colonnello Montezemolo, capo di stato maggiore di Badoglio, non fugge da Roma, resta a difendere la città, i nazisti lo prendono, lo portano via tasso, gli strappano le unghie, i denti, ma non un solo nome dei compagni prima di portarlo con gli altri all'erdeatine. La resistenza fu fatta dagli scrittori, tra cui uno che mi è particolarmente caro perché è nato nella mia cittadina, ad Alba, uno scrittore che parlando di sé in terza persona, così motivò la scelta di non andare a Salò, scrisse salì verso le somme colline, verso il mondo ancestrale che l'avrebbe protetto nel vortice del vento nero e mentre saliva si sentiva investito, in nome dell'autentico popolo d'Italia, ad opporsi in ogni modo al fascismo. Era inebriante una tale somma di potere, ma ancora più inebriante era la coscienza dell'uso legittimo che ne avrebbe fatto. Ed anche fisicamente non era mai stato così uomo, piegava, Erculeo, il vento e la terra. Sto parlando di Beppe Fenoglio. La resistenza quindi dovrebbe essere considerata patrimonio dell'intera nazione e non di una fazione, neanche della fazione che se ne è impossessata nel dopoguerra. Ma il motivo per cui era giusto, non soltanto politicamente, moralmente, ma anche proprio sul piano giuridico legittimo, avrebbe detto Fenoglio, combattere i nazisti, lo spiega al processo di Torino il capitano Balbis. Al poligono di tiro del Martinetto cade anche il capitano Balbis, decorato El Alamein, che lascia scritto alla famiglia di far celebrare ogni anno una messa al 9 novembre, anniversario della battaglia. Per tutti i miei compagni d'arme che in terra d'Africa hanno dato la vita della nostra indimenticabile Italia. Il giudice di Salò che lo interroga nel processo farsa gli rinfaccia. Capitano, voi siete un valoroso, voi avete avuto un'alta norificenza germanica, voi dovevate dare tutto per salvare la patria. E lui? Io ho dato tutto per la mia patria. Ho camminato sempre sulla linea dell'onore. Non ho mai dimenticato l'ideale del soldato e perciò il mio giuramento. Il giuramento che il capitano Balbis, come altri milioni di italiani mobilitati durante la seconda guerra mondiale, aveva prestato, era un giuramento fatto al re. Il re era il capo dello Stato e dell'esercito. Al re si doveva obbedienza. E quindi quando l'Italia era divisa in due, tra il nord ancora occupato, il sud già liberato, anche allora l'Italia era una sola. Eppure oggi non soltanto la resistenza, ma anche il risorgimento, da cui tutto ebbe inizio, è denigrato, è sotto accusa. Il risorgimento è considerato una cosa da liberali quattro gatti. Ma non è così. Non è il risorgimento a fare l'Italia. Sono gli italiani a fare il risorgimento. In un paese molto diverso da quello di oggi, diviso in sette stati le cui polizie perseguitano i patrioti, che li mandano sulla forca come Ciro Menotti o i martiri di Belfiore, tra cui c'erano molti sacerdoti, o li mandano allo Spielberg come Silvio Pellico. Beh, in un paese così nasce un grande movimento politico e culturale, che infiamma scrittori come Manzoni, come Nievo, musicisti come Verdi, che fa discutere politici e pensatori del calibro di Cavour, Mazzini, Cattaneo e poi cattolici come Rosmini, come Balbo. E non è vero che non ci sia il popolo nel risorgimento. Nel 1848 insorgono tutte le grandi città italiane, Messina, Palermo, Napoli, Roma, le grandi città del Veneto, Brescia, Genova, Milano. E non sarebbero bastati i sciuri, gli aristocratici, a cacciare gli austriaci da Milano. Dopo le cinque giornate Carlo Cattaneo, che fu uno dei capi della rivolta, andò all'obitorio per cercare di capire chi fossero i 400 milanesi caduti. Chiese ai loro parenti che mestiere facessero, esaminò le loro mani e vide che erano mani callose, mani di operai, di artigiani. E vide anche il cadavere di Gennaro, lo sciancato, che chiedeva l'elemosina. E fu quello che si offrì volontario per andare ad accendere le fascine, per applicare il fuoco del palazzo del genio e costringere gli austriaci alla resa. E lo stesso accade a Venezia. A Venezia tutte le classi sociali contribuiscono a restaurare la Repubblica Veneta. Gli aristocratici, i borghesi, come Daniele Amanin, ma anche gli operai e i contadini. Venezia aveva la più grande fabbrica del tempo, l'arsenale, 800 operai, comandati da un croato, un uomo cattivo, Marinovic. Ogni volta che gli operai gli chiedevano un aumento dei loro magri salari, lui rispondeva forse la prossima settimana. Venezia era tenuta da una guarnigione di 9.000 uomini, per metà croati e per metà contadini veneti che non amavano i veneziani, che li avevano tenuti sotto il tallone per secoli. L'arsenale insorge, gli operai fanno prigioniero Marinovic, lui cerca di fuggire, loro lo pugnalano a morte, lui chiede a un prete, gli operai gli rispondono forse la prossima settimana. A quel punto la guarnigione ha l'ordine di sparare e qui accade il prodigio. I contadini veneti rifiutano di sparare su altri italiani. E Daniele Amanin non sceglie per la risorta della Repubblica Veneta il gonfalone di San Marco, sceglie il tricolore con un leoncino nell'angolo, segno che le due bandiere possono stare insieme e l'attaccamento giusto, sacrosanto, che ognuno di noi ha per il suo campanile, per la sua piccola patria, per il dialetto, per il territorio, può convivere con l'amore per la patria comune che ci comprende tutti, l'Italia. E il sud, la Sicilia in particolare, non fu conquistata dai piemontesi, ma a ben vedere non fu neanche liberata da Garibaldi dai suoi mille volontari, quasi tutti bergamaschi, bresciani, perché erano 30.000 i picciotti, i volontari siciliani che si unirono a lui e molti lo seguirono nella risalita della penisola e ovunque, anche a Napoli. Garibaldi fu accolto trionfalmente. Garibaldi non conquistò Palermo, entrò a Palermo con un sotterfugio, mandando avanti i carri con i feriti, i mercenari borbolici seguirono quelli e lui piombò sulla città, si acquartierò e il resto però lo fecero i palermitani che si schierarono con lui. La città fu bombardata dal mare, ma alla fine i mercenari borbolici dovettero arrendersi. Poi è vero che ci fu, dopo il risorgimento, una guerra civile al sud ed è vero che per troppo tempo se ne è parlato troppo poco, però è sbagliato ed è disonesto presentarla come una guerra del nord contro il sud. Le prime vittime dei cosiddetti briganti furono i patrioti del sud, della guardia nazionale, che venivano massacrati da quella strana alleanza di briganti in senso tecnico e dei nostalgici del borbone, festa, farina e forca. Non esattamente un'alleanza per il progresso, anche in quella guerra civile c'era una parte giusta e una parte sbagliata. Poi certo, il risorgimento è fatto di uomini e gli uomini commettono degli errori e a volte dei crimini. Il risorgimento si fece contro la Chiesa. Però oggi la Chiesa ha un atteggiamento molto interessante, molto aperto sui 150 anni. Il Cardinale Bagnasco più volte ha rivadito nella necessità di salvare l'unità nazionale, di fare un federalismo solidale. Il Cardinale Bertone è stato il primo segretario di Stato ad andare a Porta Pia dopo 140 anni. Il Cardinale Ruini ha fatto un convegno molto importante a Roma sui 150 anni. Insomma, questo risorgimento che si fece contro la Chiesa finirà paradossalmente per essere salvato dalla Chiesa stessa, anche perché il risorgimento oggi non è di moda, non si fanno fiction sul risorgimento. Anche il re che fece l'Italia, Vittorio Emanuele II, un personaggio cinematografico, romanzesco, però non ha un grande romanzo, un film importante che lo racconti. Era talmente, però, personaggio, preferiva le popolane alle nobildonne, la bagna cauda alle salse francesi. Era talmente simpatico, un po' rozzo, che nacque la leggenda che non fosse il vero figlio del re, che il vero figlio del re fosse morto in culla in un incendio a Firenze e fosse stato sostituito nottetempo dal figlio di un macellaio fiorentino. Io sono nipote di un macellaio e quindi la leggenda mi piace e sono sicuro che piace anche a Giorgio Guazzaloca che vedo qua in prima fila e che saluto. Però nel libro scrivo che si tratta solo di una leggenda, non l'avessi mai fatto. Quando abbiamo fatto questo stesso spettacolo la Notte Bianca, il 16 marzo a Firenze, il sindaco Renzi ci ha dato il Salone dei 500, di Palazzo Vecchio, ma c'erano più di mille persone. Qualche giorno dopo mi è arrivata una lettera della famiglia dei discendenti del macellaio fiorentino che mi scrivevano «Ma quale leggenda? Noi in casa ancora si racconta della notte in cui vennero a portare via il bisnonno per portarlo alla regia». E quindi, chissà. Resta il fatto che se confrontati i ritratti vedrete che Vittorio Emanuele non assomiglia per nulla a suo padre. Carlo Alberto era magro, pallido, era alto più di due metri, puniva con il Cilicio una gioventù libertina, mentre Vittorio Emanuele era basso, tozzo, grassoccio, però era capace di gesti nobili come questa lettera che ora ascolteremo, scritta a Costantino Nigra. Siamo alla vigilia della seconda guerra di indipendenza, 1859. Gli austriaci marciano su Torino, i francesi non sono ancora arrivati nel sostegno. Il rischio è pazzesco. Se gli austriaci vincono per la terza volta in dieci anni è finita. Eppure, nell'ora fatale, sentite qual è la preoccupazione di Vittorio Emanuele II. Io parto domattina per la campagna con l'esercito. Procurerò di sbarrare la via di Torino. Se non ci riesco e il nemico avanza, ponete al sicuro la mia famiglia e ascoltate bene questo. Vi sono, al Museo delle Armi, quattro bandiere austriache, prese dalle nostre truppe nella campagna del 1848 e là deposte da mio padre. Questi sono i trofei della sua gloria. Abbandonate tutto al bisogno. Valori, gioie, archivi, collezioni, tutto ciò che contiene questo palazzo. Ma mettete in salvo quelle bandiere che io le ritrovi intatte e salve come i miei figli. Ecco tutto quello che vi chiedo. Il resto non conta. Parole davvero da re. Queste parole sono per noi italiani, non per i piemontesi, perché se si va a San Martino, dove fu combattuta la battaglia che decise la seconda guerra di indipendenza, si vede che ci sono resti non soltanto di soldati piemontesi, valdostani, liguri, sardi, ma di volontari venuti da tutte le parti d'Italia. Queste parole sono per noi italiani l'equivalente delle parole di Churchill alla Camera dei Comuni, quando dice non ci renderemo mai, se anche i nazisti arriveranno a Londra, noi continueremo a combattere, non ci renderemo mai. Vittorio Emanuele vuole dire la stessa cosa, se anche gli austriaci arriveranno a Torino, teniamo da parte le bandiere che gli abbiamo preso nel 48, perché noi continueremo a combattere per l'indipendenza d'Italia, non ci renderemo mai. E anche suo padre, il re tentenna, come viene chiamato, non tentenò per nulla Carlo Alberto la notte della sconfitta di Novara, 1849, Carlo Alberto manda a chiamare i suoi figli, i suoi generali, chiede se si può ancora resistere il giorno dopo, gli rispondono di no, allora lui si alza in piedi nei suoi due metri e dice da questo momento io non sono più il re, il re è Vittorio, mio figlio, tiene a precisare come quasi per sfatare la leggenda della sostituzione di infante e parte per l'esilio con una fogata tale che devono inseguirlo a cavallo per fargli firmare l'abdicazione, parte con un cocchiere e con un passaporto intestato al conte di Barge, Barge è un piccolo paese del Piemonte, gli austriaci lo fermano, Carlo Alberto si dispera perché pensa che neanche quell'ultima umiliazione gli viene risparmiata, ma il comandante austriaco non vorrebbe umiliarlo e pensa a un trucco per lasciarlo passare, manda a chiamare un prigioniero di guerra piemontese, un bersagliere e gli chiede riconosci quest'uomo? Il bersagliere risponde sì, certo, come dire, è il re, no attento, puoi confermarmi che si tratta del conte di Barge? Il bersagliere capisce, comincia a piangere e con le lacrime agli occhi dice sì, sì, lo riconosco, è lui, è il conte di Barge e così Carlo Alberto può ripartire per l'esilio, impiegherà settimane ad arrivare a Oporto, lo stesso luogo poi dove morirà Umberto II e pochi mesi a morire. Sono stato a Oporto a vedere la sua stanza, il suo letto, è in un palazzotto a due piani alla periferia della città, da peti francesi, porcellane inglesi, parche inchiodato, una piccola cappella con un inginocchiatoio, una finestra sul fiume duro. La stanza in cui morì il re che tentò di fare l'Italia è quella d'angolo, pare una via di mezzo tra una poesia di Gozzano e il mercato dei mobili usati di porta palazzo. Fiori sotto una campana di vetro, un comodino di legno a colonna, un termos, tre sedie, due poltrone, su cui sedettero gli ultimi visitatori giunti da Torino, Giacinto di Collegno e Luigi Cibrario. Il re morente assicurò di essere pronto, semmai sorgesse una nuova guerra contro l'Austria, a correre spontaneo anche qual semplice soldato, la nazione può aver avuto principi migliori di me, ma nienuno che l'abbia amata tanto. Viva la libertà! 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 Garibaldi ha reso all'Italia il più grande dei servizi che un uomo potesse offrirgli. egli ha dato agli italiani fiducia in loro stessi, ha provato all'Europa che gli italiani sanno battersi e morire sui campi di battaglia per riconquistarsi una patria. Camillo Benso, Conte di Cavour. Ho dovuto combattere contro Napoleone, il più grande condottiero. Mi è riuscito di mettere d'accordo imperatori, re, uno zar, un sultano e un papa. Ma nessuno sulla faccia della terra mi ha procurato maggiori difficoltà di un manigoldo italiano, emaciato, pallido, straccione, ma affacondo come l'uragano, rovente come un apostolo, furbo come un ladro, sfacciato come un commediante, infaticabile come un innamorato. Il suo nome è Giuseppe Mazzini. Clemens Wenzel, principe di Metternich Forse avete già sentito, non molto tempo fa, queste parole. Sono le parole di Roberto Benigni al Festival di Sanremo. Benigni ha impostato il suo monologo su Viva l'Italia, cosa che mi ha fatto molto piacere perché ha moltiplicato per milioni di volte la forza delle mie parole. Che poi in questo caso non sono mie, la descrizione dei due Giuseppe di Mazzini e Garibaldi è affidata a due loro nemici, Cavour e Metternich. Cavour ha la grandezza di riconoscere che Garibaldi ha reso gli italiani il più grande dei servizi. Ha mostrato all'Europa che gli italiani sanno battersi e morire per riconquistarsi una patria. E questo è di nuovo vero ancora oggi. A lungo, dopo il disastro della Seconda Guerra Mondiale, l'esercito italiano non ha avuto il prestigio che ha adesso. A lungo l'esercito è stato considerato o una grana da evitare o una torta da spartire. Oggi il prestigio dell'esercito italiano è di nuovo molto alto. Nel mondo, perché i nostri soldati sono considerati i migliori nelle missioni di pace, è in patria. Perché? Perché è di nuovo vero quello che diceva Cavour parlando di Garibaldi. Gli italiani sanno mostrare al mondo di sapere sacrificare anche se stessi, certo per la loro famiglia, ma anche per il bene comune e per la patria. E quindi io vorrei rivolgere un pensiero ai soldati e agli alpini italiani caduti in Afghanistan e Medio Oriente. Grazie a tutti. E voi lasciatevi salutare anche i quattro colleghi che sono stati liberati stamattina per il sollievo di tutti. Claudio Monici, Pino Sarscina, Elisabetta Rosaspina, Domenico Quiri. Ecco, Mazzini e Garibaldi, i due Giuseppe, sono i due personaggi davvero internazionali del nostro risorgimento. Garibaldi era forse l'uomo più famoso del mondo, ovunque ci fosse un popolo oppresso, dall'America Latina, alla Polonia, dalla Spagna, all'Ungheria, i patrioti scandivano il nome di Garibaldi nei cortei, c'erano i suoi ritratti nelle case. I due non si amavano, uno era un uomo d'azione, l'altro era un politico, però sempre a trovare una certa unità di intenti durante la Repubblica Romana, quando per la prima volta in Italia si vota a suffragio universale. E si legge un'assemblea costituente che sotto le bombe francesi scrive una carta così avanzata che interi passi della Costituzione della Repubblica Romana, del 1849, saranno ripresi, tali e quali, cent'anni dopo, nella Costituzione della Repubblica Italiana. A Roma, per la prima volta nell'Europa liberale, si teorizza che la libertà da sola è appena un fiato di voce se non c'è il progresso sociale, il pane per i contadini, il salario per gli operai e la scuola per i loro figli. Sbarcano i francesi, comandati dal generale Udino, e gli ambasciatori della Repubblica lo avvertono, noi ci batteremo, e il generale risponde ridendo, «les italians ne se battent pas». Si batterono talmente bene i patrioti romani e quelli venuti da tutte le parti d'Italia, in particolare dalla Lombardia, dal Veneto, dalle Romagne, a difendere Roma, che il primo giorno, sotto San Pancrazio, i francesi persero 500 uomini tra morti e feriti e dovessero fare arrivare di corsa rinforzi da Tolone. Sotto le mure di Roma combattevano non soltanto gli uomini, ma anche le donne, perché la donna nel risorgimento non è soltanto la compagna dell'eroe, Anita Garibaldi, o la femme fatale, la contessa di Castiglione, o la mater dolorosa, Adelaide Cairoli, cinque figli, quattro muoiono con Garibaldi, e il superstite, benedetto Cairoli, diventa presidente del Consiglio. «No, la donna nel risorgimento è anche leader politico, la principessa di Belgioioso è una dei capi delle cinque giornate e poi della Repubblica Romana. Oppure la donna è combattente, come Colombo Antonietti, di cui ora Marianna Dal Collo ci leggerà la storia». Tra i difensori della Repubblica Romana c'è Colombo Antonietti, tra Steverina di origine Umbra, vent'anni. Suo marito, il conte Luigi Porzi, è stato diseredato e anche incarcerato per aver infranto le leggi del tempo e sposato una popolana. E lei viene ferita a morte a Porta San Pancrazio, mentre combatte, vestita da uomo, accanto al suo amore. Il monitor italiano racconta la morte di Colombo Antonietti, come quella di una martire. Ella giunse le mani, volse gli occhi al cielo e morì gridando «Viva l'Italia!». Il marito vivrà ancora a lungo, ma non si risposerà più. Emilio Dandolo vede morire Luciano Manara. È lui a darne notizia alla moglie. Una palla colpì il povero Luciano alla bocca dello stomaco e gli uscì dalla schiena. Fece tre passi e io accorsi e lo presi in braccio. «Ho pochi momenti da vivere», mi disse. «Ti raccomando, i miei figli». E mi diede un bacio. L'aistocratico Lombardo si è battuto senza speranza sino all'ultimo, fedele a quanto un mese prima aveva confidato a un amico. Noi dobbiamo morire per chiudere con serietà il 48. Affinché il nostro esempio sia efficace, dobbiamo morire. Resta Garibaldi. Il Parlamento della Repubblica lo convoca in Campidoglio per chiedergli consiglio. Arrendersi, combattere casa per casa o lasciare Roma per portare la guerra in Romagna contro gli austriaci, come propone Mazzini. Il generale arriva direttamente dal campo di battaglia. Un testimone ce ne ha lasciato un ritratto di potenza straordinaria. Madido di sudore, intriso di sangue, coperto di polvere, in volto avvampato. Tutti si alzarono in piedi, acclamandolo. Dalle tribune risuonavano dei bravo, strepitosi. Poi Roma cade, Garibaldi tenta di soccorrere Venezia che ancora resiste, muore nel Pineta di Ravenna a Nita e Garibaldi riparte per l'esilio, prima a Caprera e poi in America. A New York Garibaldi lavorava come operaio nella fabbrica di un altro grande italiano, Antonio Meucci, il padre del telefono, che aveva una fabbrica di candele. E un giorno, stanco di far lucignoli, Garibaldi se ne andò al porto di New York a cercare, lui marinaio, un imbarco su una nave, una nave qualsiasi, che lo portasse lontano da lì. E i marinai, giovani e forti, neanche gli diedero risposta. E siccome stava nevicando e faceva freddo, Garibaldi chiese di poter dare una mano a scaricare una nave, così gratis, solo per scaldarsi, e lo mandarono via. Ebbene, quell'uomo ridotto a rudere, seppe pochi anni dopo mettersi alla testa di mille matti, liberare il sud e delle immense ricchezze di quel regno, sentite cosa portò via con sé, a Capraera, di nuovo in esilio. Il 6 novembre 1860, dopo aver liberato la Sicilia e il sud dai Borboni e averli consegnati a Vittorio Emanuele, Garibaldi passò in rassegna le sue truppe davanti alla reggia di Caserta. Il re aveva promesso di venire, ma non si fece vedere. Il giorno dopo, il generale lo accompagnò nell'ingresso a Napoli. Poi, partì per Caprera. Rifiutò tutte le offerte, il collare dell'annunziata, massimo onorificenza dei Savoia, un titolo nobiliare, un castello, la nomina generale di armata, una nave, i privilegi per i figli, una tenuta per Menotti, una dote per Teresita, la nomina di Ricciotti ad aiutante di campo di Vittorio Emanuele, delle immense ricchezze del regno che aveva conquistato, non portò a Caprera i quadri di Caravaggio, i gioielli della Corona, l'oro dei Borboni, ma qualche centinaio di lire racimolate a sua insaputa da un luogotenente, alcuni pacchi di caffè e zucchero, un sacco di fave di cui era ghiotto, un sacco di sementi e uno scatolone di merluzzo secco. Quasi la metà di questi soldati era infanteria. Seguivano poi con 200.000 unità gli alpini con la loro mantella e il cappello con la piuma, il genio che costruiva ponti e scalava trincee e gallerie e i bersaglieri, qui li vediamo sfilare in bicicletta. La cavalleria, i carabinieri e i granatieri, avevano contingenti minori. Quasi 100.000 addetti si dedicarono alla sanità e 40.000 alla sussistenza e tra di essi vi furono molte donne crocerossine. Tra i soldati che combatterono nel primo conflitto mondiale ci fu anche il grande poeta Giuseppe Ungaretti, arruolatosi volontario in fanteria e inviato prima nel Carso, poi sul frattempo fronte francese. All'esperienza della guerra Ungaretti dedicò molte dolenti poesie come San Martino del Carso. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano non mi è rimasto neppure tanto, ma nel mio cuore nessuna croce manca. È il mio cuore il paese più straziato. Di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli, si sta come da autunno sugli alberi, le foglie. Sono un poeta, un grido unanime, sono un grumo di sogni. Sono un frutto di innumerevoli contrasti d'innesti, maturato in una serra. Ma il tuo popolo è portato dalla stessa terra che mi porta, Italia. E in questa uniforme di tuo soldato mi riposo come fosse la culla di mio padre, Giuseppe Ungaretti. Guarda la sua mascella che ti è infermo, guarda la severità della sua bocca, onde il comando e il castigo scocca, e il lampo a cui la palpebra fa schermo, gravata sopra il chiaro occhio che scaglia, l'anima al segno e il tratto non misura. Sempre in tutt'arme, egli è senza armatura, tutta nel pugno nudo, alla battaglia. Gabriele D'Annunzia Caro amico, se muoio, l'annuncio dovrà essere il più semplice possibile. Da evitare assolutamente queste parole. Patria, onore, fervi da gioventù, fiori di giovinezza, odiato nemico, orgoglioso e commosso, eccetera. Basterà. È caduto in combattimento. Carlo Emilio Gadda. E siamo arrivati alla Grande Guerra. La memoria della Grande Guerra è oggi spenta. Nel libro racconto l'intervista che feci all'ultimo fante, Carlo Relli, morto a 109 anni. La memoria oggi può rivivere nei racconti che noi possiamo fare, i nostri figli, i nostri nipoti. Ed è una memoria spesso triste, 600 mila morti, mutilati, una guerra che era meglio non fare. Però la Grande Guerra è anche la prima prova dell'Italia unita. Il crogiolo in cui per la prima volta si fondono italiani del nord e del sud, laureati ed analfabeti, gente di città e gente di campagna. E quella prova terribile l'Italia la superò. Poteva essere spazzata via e dimostrò di essere un fatto compiuto. Non più un nome geografico, ma una nazione. Nel libro cerco di raccontare la Grande Guerra attraverso le parole dei poeti che l'hanno fatta e l'hanno narrata. Quelle un po' ridondanti di dannunzio che dedicava questi versi sul Corriere della Sera a Luigi Cadorna, il figlio di Raffaele Cadorna che prese Roma e il padre di Raffaele Cadorna, comandante di volontari per la libertà nella Resistenz. Luigi Cadorna era nato a Verbania, sul riva al lago, anche lui. E in un'altra poesia d'annunzio scrive questi che vedi curvo sulle carte, nel più duro granito del Verbano tagliato e scarpellato fu con mano di maestro e il vigor soverchiò l'arte. Cadorna, cui non mancava l'autoronia, commentò, ecco un modo elegante per dire che sono brutto. No, invece io amo di più il modo in cui fanno e raccontano la guerra Gadda e Ungaretti. Pensate, i due grandi innovatori della letteratura italiana, uno nella poesia e l'altro nella prosa, si ritrovano a distanza di pochi chilometri l'uno dall'altro sull'Isonzo, entrambi volontari, entrambi fanno il corso ufficiale. Ungaretti però non lo superò, fu giudicato, inadatto al comando e lui, già trentenne, già uomo maturo, come avete visto, farà tutta la guerra come soldato semplice accanto ai diciannovenni che gli facevano gara a portargli lo zaino e il fucile. Ungaretti amava l'Italia, ma non c'era mai stato perché era nato da Alessandria d'Egitto, poi era andato a Parigi. Ed è soltanto con l'uniforme addosso che lui in qualche modo si scopre italiano e scrive quell'altra bellissima poesia, I fiumi, in cui enumera i fiumi della sua vita, il Serchio, sulle cui rive sono nati i suoi antenati, ma che lui non l'ha mai visto, il Nilo, sulle cui sponde lui è nato, la Senna dove si è riconosciuto come poeta e l'Isonzo in cui si riconosce come italiano. Carlo Emilio Gadda invece superò il corso ufficiale, ebbe il comando di un reparto che fu fatto prigioniero a Caporetto e per ogni notte dei lunghi mesi che passò in prigionia, Gadda sognò i suoi amici, quegli stessi amici cui aveva detto se muoiono scrivete onore, gloria, ma scrivete soltanto è caduto in combattimento. Sognò gli amici che gli chiedevano conto, che gli dicevano ma tu hai lasciato passare gli austriaci. E ancora nel 1959, quando Gadda era ormai il più importante scrittore italiano, andò a vedere la prima di un bellissimo film, La Grande Guerra, un film di cui una volta Mario Monicelli mi ha raccontato che secondo lui Gassman è dominato da Sordi, Gassman è il grande attore che si cala nella parte del milanese un po' baiuscia, mentre Sordi non fa il romano un po' indolente, lui è il romano un po' indolente che però nel momento drammatico, noi italiani molto spesso diamo il meglio di noi stessi nei momenti drammatici, davanti alla scelta tra tradire e morire, sia Gassman sia Sordi non hanno esitazione a scegliere il plotone di esecuzione piuttosto che consegnare i piani italiani ai nemici. La Grande Guerra non è un film anti-italiano, semmai è un film arci italiano, eppure quel film a Gadda non piacque, se ne andò sdagnato dicendo che il pubblico aveva riso, mentre un pubblico francese o tedesco non avrebbe mai riso e poi aggiunse la guerra non era così, era una cosa seria e noi ci credevamo davvero. E ci credevano a maggior ragione quei 2000 volontari partiti da Trento e Trieste, erano cittadini austriaci, erano italiani di cuore, di lingua, ma erano sudditi dell'imperatore e l'imperatore mandava i suoi sudditi italiani a combattere in Galizia contro i russi o in Serbia. La Galizia, la terra di Papa Moittivo. 2000 di loro disertarono e andarono a combattere con gli italiani contro gli austrieci, andando incontro a morte quasi certa, se anche sopravvivivano gli assalti, non venivano fatti prigionieri, venivano impiccati come Cesare Battisti. Uno di loro, un ebreo triestino, Antonio Bergamas, ha scritto una lettera che ora Michele Ghionna ci leggerà, che io considero la pagina più bella del libro, è una lettera alla madre in cui Antonio Bergamas spiega perché va a morire. Il libro è pieno di gente che sarebbe rimasta volentieri a casa sua, ma arriva un momento nella vita e nella storia in cui bisogna scegliere da che parte stare. E Antonio Bergamas scrive, mamma, io non volevo morire, ma se proprio dovevo farlo non volevo morire in Galizia o in Serbia, ma per la nostra patria, l'Italia, sul nostro carso, con il tuo nome sulle labbra, cadrà davvero sul carso, Antonio Bergamas? E sua madre nel 19, la guerra è finita, sarà incaricata di scegliere il milite ignoto che riposa oggi a Roma, all'altare della patria. La portarono nel Duomo di Aquileia, davanti a 11 bare di 11 soldati sconosciuti come suo figlio, lei si tolse lo scialle nero, lo posò sulla seconda bara, a quel punto il cerimoniale le disse, prego signora può uscire, ma lei vuole passare in rassegna anche gli altri ragazzi per salutare, per chiedere scusa di non aver scelto loro. Arrivata davanti alla decima bara, cadde a terra, sopraffatta dell'emozione, poi si riprese, visse ancora una vita lunga, fece in tempo a votare, quando le donne troppo tardi votarono per la prima volta nel 1946, morì nel 1954 e oggi Maria Bergamas riposa nel cimitero di guerra di Aquileia accanto agli altri 11 milite ignoti. E questa è la lettera che suo figlio Antonio le scrisse prima di morire. Domani partirò per chissà dove, quasi certo per andare alla morte. Quando tu riceverai questa mia, io non sarò più. Forse tu non comprenderai questo, non potrai capire come non essendo io costretto sia andato a morire sui campi di battaglia. perdonami dell'immenso dolore che io ti recco e di quello che io recco al padre mio e mia sorella, ma credilo, mi riesce le mille volte più dolce il morire in faccia al mio paese natale, al mare nostro, per la patria mia naturale, che il morire laggiù nei campi ghiacciati della Galizia o in quelli sassosi della Serbia, per una patria che non era la mia e che io odiavo. Addio, mia mamma amata, addio mia sorella cara, addio padre mio. Se muoio, muoio coi vostri nomi amatissimi sulle labbra, davanti al nostro carso, selvaggio. È alla fine del 1943 che si moltiplicano i gruppi di partigiani e di resistenti che sulle montagne o nelle città sabotano con azioni di guerriglia, rappresaglie e scioperi il dominio nazifascista sull'Italia centro-settentrionale. Surgono così le brigate Garibaldi, a maggioranza comunista, quelle di giustizia e libertà, collegate al partito d'azione, le brigate, costituite in maggioranza da militari datisi alla macchia dopo l'8 settembre, le brigate autonome, come per esempio la Osoppo in Friuli e la di Dio in Valdossola, le fiamme verdi di ispirazione cattolica e altre ancora. I partigiani godono generalmente dell'appoggio della popolazione. Meno facili sono i rapporti tra loro, anche se con il tempo il coordinamento aumenta grazie all'azione dei comitati nazionali di liberazione appositamente costituiti. Anche le donne si danno alla macchia, segnando una pagina importante della storia del movimento di liberazione nazionale. Le donne sono le prime a sapere anche che il fascismo è l'opposto della democrazia e quindi lo combattono. Prima della fucilazione, Cleonice Tommasetti si rivolse ai compagni. Su, coraggio ragazzi, è giunto il plotone d'esecuzione. Niente paura, ricordatevi che è meglio morire da italiani che vivere da spie, da servitori dei tedeschi. Un milite fascista traduce la frase a un soldato che la prende a schiaffi e a sputi. Altri militi, però, fremono di rabbia, alla vista delle umiliazioni inflitte a uomini e donne, che sono pur sempre compatrioti. Se percuotendomi volete mortificare il mio corpo, è superfluo il farlo. Esso è già annientato. Se invece volete uccidere il mio spirito, vi dico che opera vana, quello non lo domerete mai. Ragazzi, viva l'Italia, viva la libertà per tutti! A Castelnuovo dei Sabbioni, nella diocesi di Fiesole, il 4 luglio 1944, i tedeschi radunano 82 ostaggi nella piazza del paese. Il parroco, Don Ferrante Bagiardi, ne chiede la liberazione. Di fronte al rifiuto dell'ufficiale nazista, si unisce a loro, impartisce la soluzione e l'eucarestia e rassicura i parrocchiali. Vi accompagno io davanti al Signore. Muoiono tutti 83. Nella stessa diocesi, nello stesso modo, muore Don Giovanni Fondelli, parroco di Meleto. Don Pasquino Borghi, figlio di contadini, parroco emiliano, nascose i partigiani nella canonica, arrestato, percosso, torturato, fucilato nella notte tra il 29 e il 30 gennaio 1944 a Scandiano, sopra Reggio. Don Giuseppe Morosini, cappellano militare del IV Reggimento di Artiglieria in Croazia, trasferito a Roma, dove si occupa dei ragazzi sfollati, assistente spirituale della Resistenza Romana, vicino Fulvio Mosconi, tenente dell'esercito e capo della banda Fulvi. Segnalato da un velatore, arrestato dalla Gestapo il 4 gennaio 1944, nel collegio leoniano a Prati, detenuto a Regina Celi, nella cella 382, torturato, condannato a morte, fucilato il 3 aprile 1944. Su dodici militari del plotone d'esecuzione, dieci sparano in aria. Ferito dai colpi degli altri due, Don Morosini viene ucciso dall'ufficiale fascista che comanda l'esecuzione, con due colpi alla nuca. Un altro prigioniero ha scritto di lui. Detenuto a Regina Celi sotto i tedeschi, incontrai un mattino Don Giuseppe Morosini. Usciva da un interrogatorio delle SS. Il volto tumefatto grondava sangue come Cristo dopo la flagellazione. Con le lacrime agli occhi, gli espressi la mia solidarietà. Egli si sforzò di sorridermi e le labbra gli sanguinarono. Nei suoi occhi brillava una luce viva, la luce della sua fede. Benedisse il plotone d'esecuzione dicendo d'alta voce, Dio perdona loro, non sanno quello che fanno, come Cristo sul Golgotha. Il ricordo di questo nobilissimo martire vive e vivrà sempre nell'animo mio. Il prigioniero era Sandro Pertini. Per 58 giorni, il colonnello Montezemolo subisce continui interrogatori e torture. I nazisti gli strappano le unghie, gli cavano i denti. Non avranno nessun nome, nessuna notizia. Armellini propone a Badoglio di scambiarlo con qualche prigioniero tedesco di pari importanza, ma la sua richiesta cadrà nel vuoto. I nazisti sanno di avere in mano un elemento di primo piano, ma quando capiscono che non ne otterranno nulla, lo portano con gli altri alle Ardeatine. Duccio Galimberti, avvocato antifascista di Cunea. In guerra diventa un punto di riferimento dei partigiani del Basso Piemonte. Viene arrestato il 28 novembre 1944 in una base della Resistenza, nascosta in una panetteria. I tentativi di scambio con i prigionieri tedeschi non riescono. Galimberti è una prede importante. Per nessun motivo può essere liberato. Ridotto in fin di vita dalle sevizie, continua a tacere. Il mattino del 4 dicembre viene caricato su un camioncino e portato fuori città, dove è giustiziato con una raffica di mitra alla schiena. Ha scritto Giorgio Bocca. Duccio viene catturato a Torino. I fascisti se lo fanno consegnare. Lo torturano e lo uccidono simulando una sua fuga. Un ragazzo che passa per il campo vicino a Centallo sente il comandante gridare «Sparate su quel bastardo!» Lo lasciano lì, per due giorni, in un fosso. C'è un rastrellamento tedesco. L'operazione piave. I partigiani e molti civili fuggono. Il comandante nazista, il vicebrigadiere dell'SS Herbert Andorfer, prepara una trappola. Fa figgere manifesti sui muri di Bassano e dei paesi vicini. Chi si presenterà avrà salva la vita e lavorerà per l'organizzazione TODT, civili al servizio dei militari, o entrerà nella FLAC, la contraerea. Ignare, le persone influenti della zona, sindaci, maestri, sacerdoti, gli stessi genitori invitano i giovani a presentarsi. Il 26 settembre 1944, gli abitanti di Bassano, compresi i bambini che giocano sul viale, vedono arrivare i camion e scendere i loro fratelli maggiori con le mani legate dietro la schiena. Nel silenzio, rotto solo dagli ordini secchi in tedesco, i ragazzi vengono appesi agli alberi. Il viale è molto lungo, ma poiché gli alberi non bastano, alla fine i remitenti alla leva nazifascista penderanno dagli alberi di altre due vie della città. I cappi sono cavi del telefono. A infilare dentro le teste dei loro coetanei sono giovani fascisti di 18, 17 e anche 16 anni inquadrati nei reparti della contraerea. I cappi sono legati da una lunga fune al camion. Il boia Karl Franz Tausch coordina l'esecuzione, spiega come e quanto stringere i lacci, ordina al camion di accelerare. Il capio si stringe attorno al collo dei primi 31 condannati. I giovani fascisti sono incaricati di tirare le gambe di coloro che respirano ancora. È quasi mezzanotte. Tra gli impiccati c'è un malato di mente che grida disperato. C'è il maestro elementare di Mirandola. C'è un ragazzo di 17 anni, Cesare, che si trovava sul grappa per curarsi una malattia ai polmoni. Un altro, Giovanni Battista, che ha appena compiuto 16 anni. Suo fratello Giuseppe, diciottenne, è stato fucilato due giorni prima. Un quindicenne viene giustiziato nella caserma Reatto con altri prigionieri. Nel plotone d'esecuzione ci sono ragazzi della sua età o anche più giovani. Alla fine, i carnefici vanno al caffè centrale e all'hotel al cardellino a brindare e festeggiare. Nessuno di loro, neppure Tausch, sarà mai processato. Tra il 20 e il 28 settembre, l'operazione Piave porta alla morte di 264 partigiani o renitenti alla leva. Solo 30 sono caduti in combattimento. Gli altri sono appesi agli alberi di Bassano o sepolti in fosse comuni. quasi tutti i prigionieri si erano presentati spontaneamente per lo strazio dei padri e delle madri che ora ottengono di recuperare almeno il corpo dei figli. Alcuni non saranno mai ritrovati. A volte mi chiedo se i ragazzi di vent'anni hanno mai sentito questi nomi. Ignazio Vian, Don Ferrante Bagiardi, Don Morosini, Don Pappagallo, Irma Bandiera, il colonnella Montezemolo. Mi chiedo se i ragazzi di vent'anni sanno cosa è successo all'Ardeatina, a Sant'Anna di Stazzema, a Boves, a Marzabotto. Temo che i ragazzi di vent'anni siano cresciuti con le orecchie il ritornello, che i partigiani erano tutti criminali sanguinari, i ragazzi di Salò erano tutti bravi ragazzi. Io ho scritto il libro anche per ricordare che non è andata così. Che quelli che oggi si usa a chiamare i vinti sono vinti dopo il 25 aprile, ma prima hanno il coltello dalla parte del manico e lo usano. Salò dalla sua alla Wehrmacht, alle SS, alla formidabile macchina bellica nazista, mentre i vincitori venivano braccati, torturati, fucilati senza processo, appesi, esposti come monito per terrorizzare la popolazione civile. È vero poi che la resistenza ha avuto le sue pagine nere ed è vero che per troppo tempo se ne è parlato troppo poco. Il Teatro Stabile di Verona, che ha prodotto questo spettacolo, ha prodotto anche uno spettacolo sulle foibe. Così come è giusto parlare del triangolo della morte, delle vendette partigiane, si parla nella prefazione di questo libro di un'altra di queste pagine nere, sul confine orientale le brigate autonome dei partiti scessero di chiamarsi brigate Osoppo perché Osoppo era la città che più lungo aveva resistito gli austriaci nel 1848 per oltre sei mesi ed erano partigiani della brigata Osoppo quelli che furono assassinati da altri partigiani comunisti a Porzus. Tra di loro c'era Guido Pasolini, il fratello di Pierpaolo Pasolini e c'era Francesco De Gregori, lo zio, il fratello del padre, del cantautore che ne porta il nome, che ha scritto una canzone bellissima che ora ascolteremo, Il Cuoco di Salò, una canzone piena di pietà per tutte le vittime, perché le vittime vanno rispettate tutte e dobbiamo sempre ricordare che anche dall'altra parte c'erano ragazzi che magari sparavano in aria per non ferire Don Morosini, che morivano gridando viva l'Italia e che erano convinti in buona fede di servire la patria, ma in quella canzone il dolore familiare non fa velo a De Gregori e non gli impedisce di ricordare che nella guerra civile c'era una parte giusta e una parte sbagliata. Alla sera vedo donne bellissime da Venezia arrivare fin qua e salire le scale e frusciare come mazzi di rosca e il profumo rimane nell'aria quando la porta si chiude ed allora le immagino nude aspettare sono attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famosi che si fermano per una notte per una stagione ma al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione vuoi sentirle cantare se quest'acqua di lago fosse acqua di male quanti pesci potrei cucinare stasera ma anche un quoto può essere utile in una bufera anche in mezzo a un naufragio si deve mangiare e qui si fa l'Italia e si muore dalla parte sbagliata in una grande giornata si muore in una bella giornata di sole ma la parte sbagliata si muore e alla sera da dietro a quei monti si sentono colpi non troppo lontani c'è chi dice che sono banditi e chi dice americani io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena se quest'acqua di lago potessi ascoltare quante storie potrei raccontare stasera quindicenni sbranati dalla primavera scarpe rotte che pure gli tocca di andare e qui si fa l'Italia e si muore dalla parte sbagliata in una grande giornata si muore in una grande giornata si muore nella parte sbagliata in una bella giornata in sole così fa l'Italia e si muore a volte mi chiedo anche cosa direbbero i personaggi che hanno fatto l'Italia dell'Italia di oggi cosa direbbe Garibaldi che parte per l'esilio non con l'oro di Borboni con il gioielli della corona ma con lo scatolone di Merluzzo secco io ho un giudizio molto critico dell'Italia di oggi però sono anche molto ottimista sull'Italia di domani perché? perché ovunque vado per il mio mestiere non so in America per l'elezione di Obama in Cina per le Olimpiadi in Sudafrica per i mondiali di calcio ovunque dico che sono italiano e sarà successo anche a voi beh sempre ci sorridono e questo lo dobbiamo non soltanto al grande lavoro fatto nei secoli dai nostri emigrati dai nostri missionari ma anche al fatto che l'Italia beh piace c'è una grande domanda di Italia nel mondo globale un mondo che diventa sempre più uniforme sempre più uguale a se stesso guarda con ammirazione a un paese come il nostro che cambia accento prodotti paesaggio a ogni crenale di collina questo mondo globale che ci fa tanta paura può anche essere una grande opportunità perché è pieno non soltanto in America in Giappone dove già ci conoscono in Germania ma anche in India in Cina in Brasile nel mondo di domani ma è pieno di gente che vorrebbe vestirsi come noi comprare i nostri prodotti bere i nostri vini acquistare i nostri cibi adottare il nostro stile di vita e magari venire in Italia e se noi siamo consapevoli di noi stessi ma nessun traguardo ci può essere negato e io sono convinto che oggi gli italiani sono più uniti di qualche mese fa anche perché siamo più legati all'Italia di quanto mi amo riconoscere prendiamo i simboli il tricolore fino a qualche anno fa era considerato un simbolo di parte quasi di estrema destra oggi è un simbolo in cui la grande maggioranza degli italiani si riconosce l'inno di Mameli fino a qualche anno fa non era considerato così importante se andate a vedere la partita di calcio più famosa di tutti i tempi Italia-Germania 4-3 e vedrete che all'inizio i calciatori non cantano l'inno e il telecronista non sta zitto continua a dare le formazioni e non è certo colpa di Gigi Riva che tra l'altro è un amico di infanzia di Don Massimo e neanche ovviamente di Nando Martellini era lo spirito del tempo l'inno non era considerato importante adesso lo è infatti prima ci siamo alzati tutti quanti in piedi a cantarlo spontaneamente e forse ancora anche lì qualche anno fa non era così normale che una platea di cattolici cantasse l'inno scritto da un errore esorgimentale come Mammeli bene vedete io credo che ancora oggi abbiamo molti motivi di essere orgogliosi di essere italiani penso ai piccoli imprenditori che mantengono vive le imprese in un momento di crisi e impoveriscono il loro patrimonio personale pur di non mandare a casa la gente penso agli operai che guadagnano meno di ieri e lavorano di più penso agli insegnanti che continuano a fare il loro dovere abbiamo ancora oggi molti motivi per gridare viva l'Italia io ho concluso non mi resta che ringraziare le persone che hanno reso possibile questo nostro incontro a cominciare ovviamente dagli organizzatori del meeting ringrazio le parole le persone care e tutti quanti voi ringrazio in particolare le persone che sono con me sul palco il direttore del teatro stabile di Verona che ha inventato tutto questo un uomo che crede nel teatro civile grazie a Paolo Valerio grazie a un'attrice meravigliosa che di solito recita film fiction che a teatro è stata Giulietta Desdemona Ophelia e oggi è stata per noi Chileonice Tommassetti e Colombo Antonietti grazie a Marianna Dal Collo ogni teatro ha bisogno di un grande attore di un grande organizzatore e anche di un bel ragazzo che fa sempre le sue figure noi abbiamo queste tre figure nell'unica persona di Michele Ghionna ma non avremmo apprezzato nello stesso modo le loro parole senza la musica del maestro Michele Fontana e grazie ai nostri tecnici Marco Spagnoli e Nicola Fasoli non è finita però io ho finito adesso Michele Ghionna Marianna Dal Collo e Paolo Valerio leggeranno l'ultima pagina del libro quella in cui si parla dei grandi quadri come dicevo prima dipinti da italiani che sono oggi a Louvre al Prado e sono tutti i quadri di argomento religioso e quando abbiamo fatto la prima di questo spettacolo a Verona l'unica grande città italiana a cui da leghista beh alla fine davanti al Battesimo di Gesù di Piero della Francesca al Cristo della Colonna di Antonello della Messina e gli altri quadri per cui mi scuso dovrete aguzzare la vista perché lo schermo è più piccolo del solito ma sono sicuro che faranno lo stesso effetto perché vedete alla fine anche i leghisti veronesi avevano le lacrime agli occhi dall'orgoglio e dalla commozione perché l'Italia è molto più antica di 150 anni nasce dalla bellezza di Dante e Petrarca dalla poesia dalla bellezza degli artisti rinascimentali e dobbiamo sempre ricordare che l'Italia è una cosa seria anche quando non lo sembra e che sono esistite generazioni di uomini e di donne tantissime donne per cui l'Italia era un ideale che valeva la vita e per cui le ultime parole furono viva l'Italia grazie De Gaulle aveva un'idea eroica ma un po' astratta della Francia grandezza re fiumi di sangue Mitterrand coltivava del suo paese un'idea carnale raccontava di sentire la Francia nel vento negli alberi nei cimiteri di campagna e anche sulla bocca delle sue splendide donne non è difficile per noi sentire l'Italia indovinarla dall'alto dell'aereo magari ritorno da un viaggio all'estero e arrivando da nord scorgere la sagoma del Garda che si allunga sotto le albi l'ansa dell'Adige dove raccolta Verona lo specchio d'acqua che ci conda da tre lati Mantua lasciarsi a destra a Firenze chiusa dalle colline e a sinistra la linea dell'Adriatico per scendere sui cerchi vulcanici dei laghi di Bracciano e di Nemi sino al Tirreno e a Roma oppure arrivando da sud intravedere il profilo di Filicudi che pare una donna incinta le altre eolie l'Etna con la neve la Sicilia e la Calabria che finiscono a strapiombo sullo stretto sin quasi a sfiorarsi poi leggere la Campania come una carta geografica Capri e Ischia Sorrento e il Vesuvio quindi quel tratto di costa tra Napoli e Roma dal monte di Procida a Sperlonga che gli antichi romani consideravano il più bello del mondo e infatti ricostruirono le loro ville a Cuma e a Baia oggi potrebbe essere la nostra costa azzurra è il litorale della Camorra non è difficile sentire l'Italia nella bellezza creata dai suoi artisti nati e morti quando l'unità della nazione non era che un sogno c'è un'Italia sciovenisse e rancorosa che se la prende con Napoleone razziatore di opere d'arte ma cos'è più esaltante che entrare nello scrigno dell'orgoglio francese il Louvre salire al piano nobile del museo più famoso al mondo percorrere la Gran Gallerie e camminare per quasi un chilometro tra centinaia di quadri di commovente bellezza e pensare che non ce n'è uno uno solo che non sia stato dipinto da un italiano quasi ignorare la Gioconda che non è un furto ma fu portata in Francia da Leonardo stesso e soffermarsi invece nella stessa sala sul meraviglioso Cristo di Lorenzo Lotto che difende l'adultera e sulle nozze di Cana in cui Beronesi ritrae se stesso i suoi rivali Tintoretto e Tiziano quindi tornare all'inizio della galleria ricominciare da Cimabue e da Giotto e poi a destra la straordinaria battaglia di San Romano di Paolo Uccello con i brafranieri pronti all'assalto a sinistra il Gesù statuario di Mantegna e quello piangente di suo cognato Giovanni Bellini le lacrime di sangue del Cristo di Antonello da Messina con una corda al collo come un animale i colori irreali della deposizione di Rosso Ferentino e ancora i misteriosi divertismont dell'Arcimboldo e quasi di fronte la donna negata nel Tevere che Caravaggio trasformò nella Madonna Morente cosa è più emozionante che andare alla National Gallery di Londra cercare la seconda versione della battaglia di San Romano forse meno bella di quella dell'Uvr ma valorizzata meglio visto che l'è dedicata un'intera parete e poi Latteone di Tiziano trasformato in cervo per aver visto Dianne le sue ancelle nude un quadro che Cezanne amava tanto da trarne spunto per le sue bagnanti quindi la deposizione incompiuta di Michelangelo dalle vesti che sembrano smolazzare fuori dalla tavola e finalmente il battesimo di Gesù di Piero della Francesca forse il quadro più bello che si è mai stato dipinto un'opera quattrocentesca che potrebbe essere stata realizzata ieri o da un simbolista d'inizio novecento o da un impressionista di fine ottocento un quadro talmente straordinario che il direttore della National Gallery lo comprò per sé nel 1861 ma dopo due giorni di tormenti decise che fosse troppo bello per rimanere in una casa e dovesse stare nel suo museo fino a quando nel 2009 l'arcivescovo di Canterbury disse che il battesimo era troppo bello e sacro per rimanere in un museo e avrebbe dovuto stare in una cattedrale possibilmente la sua e cos'è più commovente che entrare al prado e fermarsi davanti a Elentiero la tela in cui Giuseppe di Arimatea le Marie e gli Apostoli seppelliscono il Cristo un quadro meraviglioso che Tiziano dipinse con le mani modellando il corpo di Gesù come fosse già decomposto con una tecnica in cui i colori si fondono l'uno nell'altro con un anticipo di tre secoli sulle ninfè di Monet un'opera di una drammaticità tale che quando Carlo V lasciò il governo dell'impero su cui non tramuntava mai il sole per ritirarsi in un convento la portò con sé e morì guardandola certo noi non possiamo ammirare Elentiero o il battesimo di Gesù ogni giorno o il battesimo di Gesù ogni giorno anche se gioverebbe la nostra morta e la consapevolezza di noi stessi ma possiamo sentire e amare l'Italia non solo nella bellezza delle nostre città e delle campagne ma nella vita quotidiana nelle storie di famiglie nella comunità nei racconti di guerra nelle storie di famiglia nelle racconti di guerra nelle vicende private in quelle che ci riguardano come nella canzone che Francesco De Gregori compose nel 79 al termine di un decennio in cui si credeva che la rivoluzione valesse molto più e dire VIVA L'Italia suonava bizzarro non meno di oggi in un paese che ancora ricordava il 12 dicembre il 12 dicembre il giorno della strage fascista di Piazza Fostata che ancora non poteva immaginare non poteva mai ma già pensava che l'Italia è Italia solo se è tutta intera viva l'Italia l'Italia liberata l'Italia del valse e l'Italia del caffè l'Italia derubata e colpita al cuore viva l'Italia l'Italia che non muore viva l'Italia presa al tradimento l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento l'Italia con gli occhi asciutti l'Italia Grazie a tutti.